Il viaggio di un virus di Ivana d'Angelo Un po' di tempo fa, nel regno di Laboratuan, c'era un piccolo paese di nome Provettilandia, governato dalla famiglia dei coronavirus. Virus. Erano virus piccoli, 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 ma potenti e virali, esperti in salto in lungo, in salto in alto, in salti di ogni specie. Il re Corvis e la regina Corvetta trascorrevano una vita tranquilla nel loro palazzo reale. Ogni volta che si affacciavano al balcone, una folla di sudditi era sempre pronta ad acclamarli. Coronavirus, coronavirus, virus, virus, coronavirus. La regina Corvetta, però, aveva sempre il broncio. Uffa! Voglio viaggiare! Voglio vedere il mondo! Che noia! Oh, stare sempre qui! Ma non era facile. Il re si disperava, vedendo la moglie sempre scontenta e cercava una soluzione. In quei giorni, a Provettilandia, sarebbe arrivata una delegazione di medici e scienziati. Al re Corvis venne un'idea. Se fossero riusciti a spiccare un salto più lungo, più alto e più potente, un salto di specie, grazie all'uomo avrebbero viaggiato in tutto il mondo. Ma il piano di re Corvis sarebbe riuscito? Quando i medici e gli scienziati passarono lì vicino, il re e la regina saltarono e saltarono e saltarono. E siccome i medici e gli scienziati parlavano e parlavano e parlavano, trovarono tante bocche aperte pronte a riceverli. Il loro viaggio ebbe inizio. Saltando di bocca in bocca, visitarono molti paesi. La Cina, la Germania, la Spagna e, oi boh, anche l'Italia. Che bel paese, disse la regina Corvetta, quando vide Roma, Milano, Venezia, Palermo. E sono ancora qui, aiuto! Ma se restiamo a casa, tutto andrà bene.